L'obiettivo sullo sfondo è la ripartenza dell'anno scolastico di settembre, una riapertura per cui non vi sono ancora a disposizione ufficiali, ma nel mezzo sono tante le azioni messe in campo, dall'assessorato all'istruzione del Comune di Pavia, in questo anno particolarmente difficile, dall'esternalizzazione del Polo di San Pietro alla gestione delle scuole di infanzia e per i ragazzi con disabilità durante il lockdown. Indubbiamente quello che abbiamo passato è stato un anno straordinario, quindi serviva operare in maniera adeguata. Era fondamentale fissarsi degli obiettivi per poter lavorare seguendo una dirittura chiara e precisa. Così abbiamo fatto, io peraltro non riesco a lavorare in maniera differente, per cui ho chiesto grande attenzione, disponibilità, professionalità e questo ho avuto da parte di tutti i miei collaboratori e di tutte le persone che operano all'interno del nostro settore, nessuna esclusa ovviamente. Gli obiettivi li abbiamo raggiunti, quindi posso dire di essere quantomeno moderatamente soddisfatto, mai completamente, perché non è nella mia indole essere completamente soddisfatto di quel che si porta avanti, perché i margini di miglioramento ci sono sempre. Oltre alla gestione delle riaperture, importante è stato il lavoro condotto sulla riqualificazione di diverse strutture grazie al contributo del settore dei lavori pubblici. Il fatto sta che comunque siamo riusciti durante il lockdown a riaprire alcune scuole a favore dei ragazzi e ragazzi con disabilità per ridare a loro socialità e un po' di ossigeno alle famiglie. Abbiamo mantenuto le scuole aperte di infanzia durante invece il periodo natalizio proprio per consentire alle famiglie che lavoravano in quel periodo di sapere dove lasciare i propri figli. Abbiamo portato avanti una serie di interventi con i lavori pubblici e direttamente come istruzione, rendendo le nostre scuole ancora più gradevoli e ospitali, soprattutto in questa fase complessa del Covid e con interventi anche importanti. Stiamo lavorando poi sulla parte esterna anche con l'aiuto del settore ambiente, del verde, quindi per migliorare una parte che ancora necessita di interventi. Delicata come anticipato è stata l'esternalizzazione delle scuole Muzzi e Collodi e altrettanto importante sarà il lavoro preparatorio in vista di settembre. Insomma le cose che sono state fatte sono tante. Abbiamo portato a termine un bando di esternalizzazione con concessione di servizio del Polo di San Pietro e siamo certi che daremo dei risultati importanti a favore proprio della cittadinanza e in particolare di un quartiere come quello di San Pietro che ne ha particolarmente bisogno di attenzione da parte dell'amministrazione. Ora partiamo con il bando relativamente alla refezione, per cui insomma non c'è sosta. E stiamo già lavorando per la riapertura di settembre, sperando che stavolta si possa ripartire con un minimo più di tranquillità, quindi incrociamo le dita e manteniamo sempre grande attenzione proprio per tutti quelli che sono le indicazioni anti-Covid. Questa è una parte degli obiettivi che ci siamo fissati e che abbiamo raggiunto. Devo dire che le cose sono ancora tante e bisogna lavorare con grande attenzione, serietà e come dico io a testa bassa.